ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato al era velliero era velliero l'orologio di un micro brand italiano il primo modello di questo micro brand siciliano è locato a palermo ultimamente questa isola ci sta restituendo numerosi micro brand che stanno scalando la classifica degli orologi in italia diciamo così l'orologio mi è stato messo a disposizione dell'amico giacomo che è titolare della gioielleria pasquale domenici di viareggio che è concessionaria del marchio da poco e che è anche parte ufficiale del canale quindi me lo ha messo a disposizione perché mi ha colpito in primis e poi anche perché ci sono state di diverse richieste nei commenti sotto all'ultimo video perché non ne prendi uno per fare la recensione e io l'ho preso è un orologio che mi piaceva esteticamente qualitativamente mi sembrava all'altezza e quindi l'ho preso l'ho portato sul canale per fare una panoramica mi sono anche messo in contatto con gli amici di era per capire un po la situazione com'è sapete che quando c'è un micro brand nuovo per la prima volta sul canale mi piace anche un po capire come funziona e praticamente era è la dea greca figlia di cronos il dio del tempo quindi è a un legame stretto con il tempo e a sua volta idea di qualcosa che non vi sto a spiegare volete che ve lo spiego e sarebbe la dea della fedeltà matrimoniale delle spose insomma già metà di voi in questo momento se ne stanno andando al canale perché la fedeltà non fa parte delle vostre caratteristiche comunque è anche sorella di poseidone e infatti nel logo era lei è un tridente che poi sarebbe il famoso tridente di poseidone il dio del mare quindi è un logo che lega fortemente il marchio al mare certo non si non si precluderanno anche orologi differenti dai diver ma pur sempre caratterizzati contraddistinti da una elevata resistenza alla pressione questo mi è stato detto beh lo allungo mi piace mi è piaciuto questo simpatico gioco con i dei greci un po' d'altronde la sicilia è stata anche terra di conquiste greche va bene detto questo l'orologio da dove nasce dopo un anno di sperimentazione di disegni vari provarono anche a farlo realizzare con la dicitura swiss made con il sellite sv200 dentro però dall'aneddoto che mi hanno raccontato dice che sono rimasti delusi da questa soluzione perché alzava notevolmente i costi e loro vogliono proporre qualcosa alla portata di tutti e soprattutto perché questo swiss made poi non portava dei grossissimi vantaggi in quanto come si sa nella maggior parte dei casi il materiale l'hardware proveniva dalla cina per poi essere assemblato in svizzera quindi a conti fatti conveniva direttamente assemblarlo in cina con gli stessi materiali e proporre qualcosa ad un prezzo inferiore e con un calibro non svizzero quindi hanno optato per questa per questa soluzione detto questo io direi che ho detto quasi tutto di questa di questa casa sì ma siciliana hanno detto vabbè mi mostro l'orologio del giorno che questo simpaticissimo viller vesta jambostar solo tempo con il quadrante mattone 40 mm di diametro cassa calibro legio per reggi 100 doppia corona perché c'è la bag interna per girevole e quindi ci piace tanto adesso giriamo la camera diamo lo sguardo a questo simpatico veliero anche il nome dice l'alice lunga su cosa è dedicato e poi ci troviamo qui come al solito per le considerazioni finali iniziamo col dare uno sguardo ai risultati delle misurazioni effettuate diametro cassa 40 mm spessore 11.5 ingombro trasversale al polso 46.9 e interasseanza da 20 mm inutile dire che a livello di proporzioni ci troviamo di fronte ad un orologio che riesce a soddisfare le esigenze della maggior parte degli appassionati né troppo grande né troppo piccolo questo credo di poterlo dire senza tema di smentita tra tutte le misurazioni però quella che impressiona maggiormente è sicuramente l'esiguo spessore generale 11.5 mm per un orologio resistente ai 200 metri sono alquanto sotto la media e al polso lo rendono particolarmente snello e filante direi che sul mio polso da 19 centimetri di circonferenza riesce ad apparire equilibrato ed armonioso nonostante sia inevitabile che spicchi la sostanziale sportività dell'intero insieme osservandolo lateralmente poi si riescono ad apprezzare quei dettagli che personalmente ho sempre ritenuto degni di nota ciò che mi piace è la sottigliezza del lato carour in primis è il fatto che ci troviamo di fronte ad un design aspiovente mi piace definirlo così le anse volgono verso il basso grazie alla lineare curvatura della carour ma è il profilo ghiera a rendere il tutto maggiormente aggraziato osservandola di profilo si nota una certa pendenza verso l'esterno una superficie che scivola inclinandosi verso la cassa sottostante una soluzione che tende a snellire ulteriormente il profilo in quanto la sommatoria di altezza carour e spessore ghiera è alquanto contenuta superfici quindi ristrette ma che riescono ugualmente a mettere in mostra un buon grado di finitura superficiale la tipica spazzolatura striata è infatti presente lateralmente sotto forma di lavorazione verticale mentre sul dorso ansa viene eseguita longitudinalmente questo incrocio di linee ortogonali trova la propria separazione grazie alla classica smussatura lucida che qui è presente in maniera fortemente ridotta un sottile bisello quasi impercettibile che viene poi duplicato anche sulla parte inferiore della carour questa lavorazione è da sottolineare in quanto le dimensioni contenute della smussatura richiedono una precisione maggiore occorre dire che nonostante ciò lo spigolo inferiore mantiene la sua acutezza e passandovi il polpastrello si percepisce quanto vivo sia l'angolo creatosi è altresì interessante notare a livello stilistico come il bisello superiore continua il suo percorso anche lungo le spallette di protezione sia sopra che sotto andando così a decorare attivamente anche quell'elemento che altrimenti avrebbe solamente una mera funzione protettiva funzione protettiva che viene amplificata dal fatto che si tratta di una corona a vite con cannotto filettato sporgente che già di suo garantisce una maggiore resistenza agli urti laterali riassumendo e guardando dall'alto abbiamo una canonica cassa diver con spallette di protezione e anse strette e filanti ma cos'è che identifica il classico diver ebbene sì la ghiera e qui occorre spezzare una lancia a favore dell'originalità e della personalità intanto perché sono personalmente estimatore delle ghiere all black vedi il mio skin diver long jean secondo me danno quell'incisivo stacco cromatico che rende il tutto più interessante e poi perché la grafica stessa si discosta dai soliti cliché che abbiamo imparato a conoscere ma partiamo dai materiali si tratta di acciaio inox trattato pvd che presenta una piacevole lavorazione concentrica una striatura opaca che corre lungo tutta la circonferenza dell'inserto e laddove risulta assente è perché ci sono i markers a prima vista mi sembravano indici semplicemente dipinti ma dopo un'attenta osservazione ho realizzato che si tratta di incisioni riempite di materiale luminescente lo si evince da quel senso di tridimensionalità che si percepisce ingrandendo la visuale chiaramente questo è un dettaglio che ad occhio nudo non potrete notare apprezzo la scelta della grafica così semplice e spartana concedetemi di utilizzare un termine che può sembrare anche fuori luogo rustico sì perché non ci si lascia andare a finezze certosine qui è tutto tronfio a partire dai numeri arabi che sembrano utilizzare il grassetto per finire ai pallini che pagliano come semplici colpi di pennello insomma nel suo insieme lo trovo accattivante e distintivo meno interessante invece la rotazione a 120 scatti è sì netta e precisa ma offre molta resistenza alla rotazione si deve applicare una discreta forza per farla ruotare a livello cromatico presenta una originale combinazione di due differenti tonalità il bianco è una sorta di arancione desaturato proprio gli stessi colori che troviamo all'interno sul quadrante e qui occorre dire che si tratta di un dial impattante a livello visivo che non può lasciare indifferenti una configurazione che prenderebbe il massimo dei voti ad una interrogazione sulla leggibilità il fondo è nero opaco goffrato una spianata di asfalto grezzo che sembrerebbe non voler concedere spazio ad eventuali raffinatezze e che invece lo fa permettendo agli indici applicati di presentarsi contornati da un elegante cornice metallica il tutto condito da una forte tridimensionalità che viene poi accentuata da quello originale cerchio che unisce gli indici in rilievo e lucido a contrasto l'intenzione è quella di voler richiamare il timone di un'ambarcazione e quell'anello in rilievo ha quindi il compito di raffigurarlo andando ad unire gli indici insomma un dial che ritengo apprezzabile e che rientra pieno nei miei gusti specie per quella sensazione di equilibrio data dal posizionamento degli indici e grazie all'assenza della finestra data che lo rende perfettamente simmetrico e speculare lungo l'asse verticale in ultima analisi occorre poi menzionare la differenza cromatica tra il gioco sfere bianco e gli accenti applicati al bicocca differenza che si palesa funzionale anche al buio laddove il differente colore del pigmento rende riconoscibile ogni singolo elemento da notare che persino gli accenti sull'inserto ghiera rispondono positivamente consentendo così il corretto monitoraggio dei tempi anche al buio non ho ancora disquisito a riguardo il calibro e per farlo occorre dare uno sguardo al lato b qui colpisce il design generale che va a riprendere a grandi linee quello del lato a ma con lo scopo di apparire come un oblò che si affaccia sul mare troviamo quindi un anello nero che replica l'architettura della ghiera con dei markers circolari che riprendono le geometrie degli indici presenti sia sul quadrante che sull'inserto come a sorpresa vista la fascia di prezzo ho potuto constatare che anche il trasparente sul fondello è realizzato in vetro zaffero ottima scelta al di sotto è possibile vedere il calibro e il suo pittoresco rotore raffigurante le onde marine non è solamente folklore però in quanto si tratta dell'ottimo miota 90 39 meccanismo considerato premium dalla casa stessa si tratta della versione nodata del 90 15 e non è quindi presente lo scatto fantasma alla corona rinomato sia per il suo spessore contenuto che per il grado di finiture presenti rappresenta una delle migliori opzioni per chi vuole utilizzare un calibro di fornitura di eccellente qualità 28.800 alternanze orarie 24 rubini e 42 ore di riserva di carica la precisione di marcia dichiarata corrisponde circa a meno 10 più 30 secondi al giorno non rimane che parlare del bracciale il classico apprezzato e sempre ben visto design a chicchi di riso un'architettura che raramente appare fuori luogo e che sull'era veliero rientra perfettamente nei canoni stilistici maglie laterali satinate longitudinalmente e inserti centrali lucidati a specchio un pattern classico che riesce sempre a restituirci quel piacere che appaga la vista attenzione che qui però si è optato per una configurazione poco vista i segmenti centrali i cosiddetti chicchi di riso non sono indipendenti si tratta di una unica maglia sagomata nella quale i 5 chicchi sono solidali tra loro questo tende a far diminuire leggermente la flessibilità tipica che porta con sé la classica maglia a chicchi di riso l'unico vantaggio che se ne trae che nel momento della rimozione delle maglie l'operazione sarà più semplice come quando si opera su di un bracciale oyster per intenderci tra l'altro le maglie sono tenute in sede dai più pregiati perni a vite un'ulteriore semplificazione delle operazioni operazioni che però effettuerete soltanto la prima volta in quanto la clasp è dotata di un sistema di regolazione automatico che prevede ben 15 mm di escursione un ampio range che consente di regolare la lunghezza per ogni stagione e per ogni tipologia di polso se poi non dovesse bastare ci sono anche due forellini per raggiungere o togliere qualche millimetro extra nulla da eccepire a riguardo della qualità costruttiva generale del bracciale tutti gli elementi sono ben dimensionati e ottimamente rifiniti vedi la satinatura sulla scatoletta circondata poi dalle smussature che riprendono quelle della cassa possiamo tornare in presa diretta per le considerazioni finali brand emergenti micro brand chiamateli un po come vi pare ma secondo me la loro funzione principale dovrebbe proprio quella di essere la porta d'ingresso anche a livello di prezzi nel mondo dell'orologeria no per chi vuole qualcosa di differente e direi che era ponendosi a 640 euro di listino no non parlo mai tanto di prezzi ma in questo caso 640 euro di listino ci riesce cioè è proprio quella porta d'entrata nel mondo di micro brand tra l'altro l'amico giacomo gli ho esplicitamente chiesto ma riesce a proporre un certo tipo di scontistica anche su questo orologio sui micro brand ma è dove si quindi c'è anche un piccolo sconto quindi dei 640 si va sicuramente sotto i 600 di quanto non lo so chiedete voi per un orologio che è di qualità ora i punti deboli ce li hai ragazzi tutti gli orologi nei punti deboli quali sono i punti deboli di questo allora la ghiera è dura da girare la ghiera è duretta però ho capito che non bisogna fare pressione dall'alto l'ho già detto altre volte però bisogna semplicemente prenderla ai lati accompagnarla oppone molta resistenza da una parte c'è il vantaggio che sicuramente non si muoverà in caso di immersioni che facciamo noi tutti i giorni dall'altro che è scomoda da girare ora riesco a girare anche con i guanti ora mi sto rimangiando tutto no è duretta vedete che duretta è duretta a girare dai poi la corona è anche essa è abbastanza complicata nel senso che bisogna fare la giusta pressione e poi avvitare non è che il primo colpo ti va subito ci vuole un po di spingimento come diceva il buono no spingitori di corone bisogna spingere la corona poi il bracciale il bracciale con questa maglia centrale qua che non è completamente a chichi di riso ma sono saldate è una soluzione che non avevo mai visto che potrebbe essere alternativa certo che me lo fa sembrare meno meno fluido di per contro quando cambi le maglie hai due maglie una e una due basta non è tutti quei pezzettini che si muovono che a centrarli io ho rovinato anche un bracciale a dargli le martellate a storcio va bene comunque i punti deboli sono questi altri non riesco a vederne stilisticamente parlato punti deboli quali possono essere ma non ce n'è ho detto è un orologio dall'aspetto abbastanza rustico è cioè talmente originale da risultare rustico quasi naif mi verrebbe da dire ma il suo bello è questo perché in primis la leggibilità è da spavento proprio la prima cosa che si percepisce perché tutto ben sovradimensionato dimensionato in maniera coerente al buio si legge benissimo poi per il resto le finiture superficiali sono da eccellenti quelle o anche non si può dire niente c'è una dimostrazione che anche con pochi soldi si può ottenere qualcosa di elevato a livello di finitura fondello trasparente qua ci sarebbe piaciuto forse un fondello chiuso no però in questo caso ho voluto dare l'idea di un oblo che guarda al mare pittoresca come soluzione però tanto chiuso aperto inciso il fondello va sul polso non si vede no c'è poco da bello il calibro che è anche guardabile tra virgolette e poi si tratta di un miota 9000 che un calibro di qualità ecco devo dire che dai micro brand che incassavano esclusivamente miota 8000 e 6 con nh 35 ultimamente si è passati a micro brand che sparano sui sellite sv 200 miota 9000 le giro per regi 100 sta salendo il livello complessivo dei micro band ragazzi sta salendo alla grande poi altre altre cose da dire non ce n'è una menzione di merito alla alla chiusura ingegnerizzata regolabile qua ci abbiamo 15 mm di scarto quindi una volta che hai regolato il bracciale a misura poi puoi giocare come vuoi estate inverno comodità non comodità direi che l'orologio è promosso a mi piace a mi piace poi se consideriamo il prezzo sotto alle 600 è tutto un ragazzi sta a voi decidere poi se può essere il giusto il giusto orologio per entrare nel mondo dei micro brand poi c'è anche chi fa collezione solamente di orologi di micro brand magari ognuno fa un po quello che gli pare io lo consiglio sinceramente perché non ha niente di sbagliato come come dimensioni come portabilità come aspetto estetico poi i gusti sono gusti il mio compito è quello di farveli vedere di leggerveli di farvi vedere le le istruzioni io sono il sono il vostro libretto delle istruzioni voi mi prendete mi aprite come diceva no vabbè e l'orologio lì io poi non devo andare a guardare i gattini su instagram e pettinare un po di bambole non è che posso stare qua tutto il giorno a parlare di orologi no anche se ci starei volentieri ragazzi vi dico anche buon natale mi lancio in questo buonismo sfrenato in questo formalismo conforme dai vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love buonismo sfrenato in questo caso